Salve ragazzi, mi sono assentato un pochino di tempo, mi sono preso una meritata vacanza ora torniamo in trincea e andiamo a fare subito subito un test di utilizzo dell'elettro utensile multiuso ricaricabile della Parkside linea X20 V Team andando a tagliare del legno qui davanti abbiamo tre tipologie di legno diverse questo è un MDF questo è il legno di un cucchiaio da cucina di un cucchiaione da cucina e questo è il legno di una doga da letto da rete di letto iniziamo con il legno della doga e con il nostro bel utensile andremo a vedere un attimino la facilità di taglio imposteremo la velocità al massimo quindi a 6 la batteria è completamente carica come indicano i led e utilizzeremo per appunto questa lama da legno ok? io per una questione puramente personale utilizzo le cuffie perché lo strumento fa un pochino di rumore e alla lunga insomma bisogna salvaguardarsi perché alla lunga insomma si vanno a pagare le conseguenze bene, azione vediamo come si comporta ok un po' di truciolo l'ha fatto devo dire che questo tipo di legno lo taglia che è una bellezza ragazzi per una volta sono contento ora cambiamo il tipo di legno andiamo con il nostro cucchiaione se volete vi dico anche quanto è spesso provando un metro lo direi anche più facilmente il metro non lo trovo e quindi vi dirò che a occhio siamo nell'ordine dei 2 cm di spessore pensavo di averlo lasciato qui da qualche parte il metro ok andiamo a serrare per bene e eseguiamo lo stesso identico taglio di picanzi fantastico come vedete il taglio lo esegue rapidamente lo esegue anche molto bene devo dire fate un'occhiata è liscio bello liscio senza imperfezioni senza difetti e ora andiamo con l'MDF questo tra l'altro era un pezzo di'MDF che aveva preso anche acqua si era deformato un poco ma ok si è tagliato il legno del cucchiaione sicuramente con questo non avrà nessun problema molto molto bene come vedete il nostro utensile Parkside con la lama da legno ha passato a occhi chiusi devo dire il nostro esame la nostra prova test anche questa è venuta molto molto bene come superficie di taglio non ha irregolarità anche se vedete come avete visto l'ho fatta in due tempi ottimo risultato veramente veramente sono soddisfatto in questo caso bene adesso faremo altri test con altri materiali altre lame e ovviamente altri video iscrivetevi cliccate sulla campanella così riceverete l'aggiornamento del video caricato ok a presto ragazzi grazie